Ciao, ciao ragazzi, come state, come va? Allora, oggi è una bellissima giornata qui in quel di Nuci, mi sono venuto a fare una camminata di buona lena. E niente, con questo video, non una camminata veloce, non mi piace, preferisco camminare a passo lento, guardare la natura, i cavalli, le pecore e i cani. Allora, dicevo, faccio questo video per informarvi che ieri è andato in onda, il mio webinar che è realizzato appunto per i finance, per trader, in cui è molto importante, molto interessante, che ha riscontrato un certo interesse da parte degli iscritti, da parte delle persone che comunque volevano scoprire quelli che sono i miei quattro segreti per poter iniziare finalmente a ottenere dei guadagni, dei risultati concreti, dei propri investimenti azionari. Quindi faccio questo video per informare tutti coloro che se ne sono dimenticati, che magari hanno pensato bene di non iscriversi, che insomma c'è una seconda possibilità anche per voi. Allora, cosa voglio dire? Io mi rendo conto che il processo di iscrizione al webinar è stato un po' complicato, nel senso che alcuni di voi mi hanno scritto Fabio, ma io non capisco se mi sono iscritto al webinar, all'evento. Allora, fate una cosa, se per caso non siete riusciti a iscrivervi a questo benedetto webinar, mandate un'email a info chiocciola fabiobrigida.com e faremo di tutto per mandarvi comunque la videoregistrazione dell'evento, comunque mettervi nelle condizioni di poter usufruire di questa formazione, questa oretta di formazione gratuita, molto molto interessante. Quindi ragazzi, quattro segreti, cioè non quattro segreti, pardon, sono quattro regole ferre sulle quali ho costruito non solo la mia fortuna di investitore, ma la mia fortuna anche di formatore, perché comunque, come dire, queste sono le regole con le quali io investo e le regole che trasferisco anche ai miei migliori clienti e studenti e quindi tutti coloro che vogliono vedere questo webinar, scrivete una mail a info chiocciola fabiobrigida.com e dite ciao, sono Arturo, vorrei vedere il webinar che Fabio ha detto, va bene? Quindi noi ci vediamo nel webinar, nella registrazione, ricordatevi di iscrivervi al canale e da questo stupendo cielo mattutino vi auguro una buona giornata, ciao!